Mai dire mai Anche i VIP più capricciosi e viziati possono cambiare, come sta dimostrando Miles Iros Sempre pronta a provocare e dare scandalo, circondata dal lusso più sfrenato, la pop star ha deciso di voltare pagina Da qualche mese è impegnatissima nel volontariato con la sua associazione a VIP e in un'intervista a Elle rivela di non sentire affatto la mancanza di red carpet e party video Non mi vedrete mai più sul tappeto rosso, ha spiegato, perché nella vita ci sono cose più serie, c'è gente che muore di fame e io dovrei andare lì sullo red carpet a farmi vedere bella? Solo perché sono una VIP? Queste cose non mi interessano più, ormai è una pagliacciata, tipo su Lando Ha 23 anni, l'esibizionista regina del pop racconta di aver liquidato il suo addetto alle pubbliche relazioni e di curare personalmente il rapporto sui social con i fan Lo fa su Instagram, non su Snapchat, perché confessa, non ho capito come si usa anche se vorrei tanto, mi sento un po' una vecchia trombata Ciao!